il vostro atteggiamento di fronte al mondo e di fronte alla vita è quello di chi ha il diritto di esigere e di prendere senza bisogno né di pagare né di guadagnare credete che tutte le cose vi siano dovute semplicemente perché siete voi e tutto qui ciò che vi acceca vi manca una misura per misurarvi vivete unicamente in base a questo mi piace o questo non mi piace vale a dire che non avete stima che per voi non riconoscete nulla al di sopra di voi né interiormente né esteriormente se la vostra stima di voi vi acceca è il più grande ostacolo a una vita nuova occorre poter superare questo ostacolo questa soglia prima di andare più avanti è la prova che divide gli uomini in due tipi il l'olio e il buon grano per quanto intelligente per quanto adottato per quanto brillante sia un uomo se non modifica la sua stima di sé sarà perduto per uno sviluppo interiore la prima richiesta la prima condizione la prima prova per chi desidera lavorare su di sé è di cambiare la sua valutazione di sé occorre che veda in sé stesso delle cose che non aveva visto prima vederle realmente la sua stima di sé non potrà mai cambiare finché non vedrà qualcosa in sé stesso e perché veda deve imparare a vedere è la prima iniziazione dell'uomo alla conoscenza di sé prima di tutto deve sapere cosa guardare una volta saputo cosa guardare deve fare degli sforzi mantenere l'attenzione guardare costantemente con tenacia a forza di mantenere l'attenzione di non dimenticarsi di guardare un giorno forse potrà vedere se vede una volta potrà vedere una seconda volta e se questo si ripete non potrà più non vedere è questo lo stato da cercare lo scopo della nostra osservazione da qui nascerà il vero desiderio il desiderio irresistibile di cambiare da freddi diventeremo caldi vibranti saremo toccati dalla nostra realtà ma vedrete che non è facile e non è a buon mercato bisogna pagare caro per i cattivi pagatori per gli oziosi per i parassiti nessuna speranza bisogna pagare pagare caro e pagare subito pagare prima pagare con se stessi con sforzi sinceri coscienziosi disinteressati più sarete pronti a pagare senza risparmiarvi senza barare senza falsificazioni più riceverete e farete conoscenza con la vostra natura vedrete tutte le furberie tutte le disonestà a cui ricorrete per non pagare in denaro contante perché occorre pagare con le vostre teorie gratuite con le vostre convinzioni radicate con i vostri pregiudizi le vostre convenzioni i vostri mi piace non mi piace senza lesinare onestamente senza fare finta cercando sinceramente di vedere mentre state usando la vostra moneta falsa cercate per un momento di accettare l'idea che non siete quello che credete di essere che vi stimate troppo dunque che mentite a voi stessi che vi mentite sempre ogni momento tutto il giorno tutta la vita che la menzogna vi governa a tal punto da non poterla controllare mentite in ogni situazione le vostre relazioni con gli altri menzogna l'educazione che date le convenzioni menzogna il vostro insegnamento menzogna le vostre teorie la vostra arte menzogna la vostra vita sociale la vostra vita in famiglia menzogna e ciò che pensate di voi stessi ugualmente menzogna occorre fermarsi interiormente e osservare 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 senza partito preso se accettate per un certo tempo questa idea della menzogna e se osservate in questo modo senza pietà forse vedrete improvvisamente ciò che non avete mai visto in voi fino a quel giorno vedrete che siete due quello che non è ma prende il posto e recita il ruolo dell'altro e quello che è ma è così debole così inconsistente che appena appare immediatamente sparisce non sopporta la menzogna la più piccola menzogna lo fa svanire non lotta non resiste è subito sopraffatto imparate a guardare fino a che avrete visto la differenza tra le vostre due nature fino a che non avrete visto la menzogna l'impostura in voi quando avrete visto le vostre due nature quel giorno in voi sarà nata la verità grazie grazie